Questo è un istituto privato, non accreditato perché non è più possibile accreditare, ossia eseguire esami con il Servizio Sanitario Nazionale. In ogni caso, qui facciamo tutti gli esami più importanti che si fanno nell'ambito medico e abbiamo anche una riabilitazione particolarmente avanzata. Tra le altre cose facciamo le risonanze di tutti i distretti corporei, anche le più evolute, le più avanzate, facciamo la TAC, facciamo un'ecografia molto avanzata, ossia l'elastosonografia e facciamo una riabilitazione di tipo ortopedico, sportivo, neurologica. Questa in particolare è molto importante perché qui abbiamo veramente un valore aggiunto rispetto alle riabilitazioni che ci sono in giro per l'Italia.